ciao a tutti vi ricordate del video precedente che vi ho fatto vedere quanta acqua di condensa veniva fuori dalla pompa di calore e che praticamente dovevo svuotare il serbatoio una volta al giorno circa ecco adesso vi faccio vedere che praticamente ho usato il tubicino che c'è in in dotazione che questo qua lo vedete no e che prima l'avevo attaccato come da istruzioni qua dove c'è questa questa ghiera si svita e poi si inserisce il tubicino in dotazione e non usci l'acqua perché probabilmente solo in fase di umidificatore quindi quando è sul tasto di umidificatore no allora probabilmente fuori esso io non l'ho provato perché praticamente dalle istruzioni c'era scritto che la pompa di calore sia quando faceva aria fredda e quindi il raffrescamento che in riscaldamento non c'era bisogno di fare uscire la condensa lo scarico della condensa del dell'acqua vi ricordate che ve l'ho detto anche nel video precedente ecco però comunque il serbatoio si riempiva spesso allora ho provato questo questo tubo l'ho inserito qua no dove prima c'era il tappino che poi svuotavo e riempivo con la con la brocca no ecco che cosa ho fatto praticamente l'ho provvisoriamente tutto provvisoriamente per vedere anche la quantità di acqua che che fuoriesce l'ho messo nel secchio del mocio no in questa maniera mi è anche utile che così poi da userò anche per a questo punto per lavare per terra visto che hanno detto che l'acqua del condizionatore è molto buona anche per per lavare no però non è di questo che vi volevo parlare vi faccio vedere che praticamente il secchio ecco l'acqua lo vedete è più o meno qua quasi metà un po meno di di metà di acqua e questa è l'acqua no da lunedì mattina adesso è giovedì mattina sono tre giorni quindi questa è l'acqua che il condizionatore in riscaldamento fa quindi all'incirca qua così ecco questo è per tre giorni tre giorni e non l'ho usato in continuo perché non ce n'è bisogno praticamente lo accendo la mattina un'ora un'ora e mezza no dove scarica un po di acqua e poi dopo lo accendo magari a mezzogiorno perché io comunque sono in casa tutto tutto il giorno quindi la casa la scaldo non è che vado a lavorare quindi lo spengo poi lo riaccendo quando torno no la casa è comunque tutto il giorno resta dai 18 ai 20 gradi 22 gradi anche la sera funziona molto bene però avete visto che c'è questa cosa del dell'acqua ecco un'altra soluzione vi faccio vedere qua ve l'avevo già fatto vedere che magari adesso è provvisoria per farvi vedere quanta acqua fuoriesce no e e si potrebbe fare un tubicino e farlo uscire fuori oppure mettere una tannica da 20 litri che vedo appunto siccome ce l'ho di poter utilizzare così in maniera sempre provvisoria perché questo è il primo anno che uso una pompa di calore prima avevo le stufette elettriche adesso provo con questa bene io vi saluto vi rimando ai prossimi video di aggiornamento che farò ancora sulla pompa di calore per vedere come procede durante tutto questo inverno siamo circa a metà quasi a metà novembre 10 di novembre va bene io vi saluto ciao a tutti ciao a tutti